I contagi aumentano, il governo decide di adottare la linea del rigore. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che proroga lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 per altri tre mesi, fino al 31 marzo del 2022. Arrivano le nuove strette per le feste. Lo tsunami causato dalla crescita dei casi positivi si sta battendo sulle vacanze di Natale, motivo per cui anche quest'anno salteranno diverse feste di Capodanno in piazza, in tante città d'Italia sono saltati concerti e feste all'aperto, le mascherine saranno obbligatorie quasi ovunque in centro e i controlli sulle norme di distanziamento saranno moltiplicati. Anche a Pesaro e Fano, il 31 dicembre, non ci sarà la classica cerimonia in piazza con la musica dal vivo e non escluso che prima di Capodanno le marche possano tornare di nuovo in zona gialla. Potrebbe anche essere esagerato perché mi sembra un po' strano che si continui ad andare avanti così, ormai non usciamo più, tanto vale tenercela dritta. L'emergenza sanitaria insomma non è a livelli di... Così disperata a me. Guardi, secondo me si è un po' esagerato perché ci fanno fare tre dosi di vaccino, per cui dopo tre dosi uno dovrebbe essere un po' più libero, invece abbiamo detto che bastavano due, poi i due non sono bastati, adesso tre, quando è che ci liberano? Favorevolissima. Secondo lei è giusto? Certo, se no non usciamo proprio più. Per preservare la mia e la salute degli altri. Io ce l'ho, il super Green Pass. Ho fatto la terza dose, per cui sono un cittadino modello. Sono d'accordo, anzi d'accordissimo con le iniziative del governo, è giusto che ci sia questo, come dire, atteggiamento verso coloro che si devono vaccinare, perché è l'unica salvezza che abbiamo, quindi vaccinarsi e misure che vadano in questa direzione. Fino a quando non sarà superata questa crisi, ed è giusto avere tante attenzioni con tutti i sacrifici che dobbiamo fare. Io sono di questo parere. Io penso che se la situazione è come adesso, con tutti questi contagi, se dobbiamo andare fino a marzo ho pazienza. Quindi lei è favorevole? Sì, sì. Esagerato o no dipende da come in campo sanitario siamo messi. Io adesso non sono ben informata, però se in campo sanitario la situazione è male, tra virgolette, è bene prolungare. Se serve è giusto che si faccia, se no bisogna valutare, bisogna vedere bene. Gli italiani cominciano un po' a capire che se rispettano le regole si vive bene tutti, punto e basta. L'obbligo vaccinale invece per le forze dell'ordine e per gli insegnanti, secondo lei è giusto oppure no? È giustissimo. Loro sono i primi a rispettare le leggi e le regole. Che gli italiani in generale non rispettano niente e nessuno. Non c'è rispetto per gli altri.